Niente, l'ora di Marcel, Marcel sta dando le indicazioni per riuscire a prendere il frisbee Ecco, c'è da correre che poi Marcel lancerà il disco È partito, vai 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 vai, corri corri corri, ci sarà un tiro lungo Ci sarà un tiro lungo, guarda, girati, ecco che arriva, stai lì Guardiamo, 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 c'è, c'è Bravo Marcel E adesso è ora di Frank, il nostro giudice della Germania, Frank Bucke Con... è un'atleta, lei è un'atleta, corre, 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 vai di rondata Ah, quasi Va bene per la preparazione degli italiani qua, eh E adesso c'è... direttamente da 100 vetrine... ah no, Adrian, resta, resta la fine Ecco Adrian Sempre le sue indicazioni delle strategie Di gara Parte, parte di corsa Sempre l'invio, lancia fuori, lancia fuori Ecco, ecco Per un attimo Quasi E adesso è lui, è lui, è lui, l'idolo delle teamese Padre strategia, sinile a quella di Alja, guardiamo, una limited, il lancio è buono E un buon applauso Il titolo è il limite, il cresco, non la valla Ecco che riparte Matteo qua Luca, Luca, Luca Un po' troppo È il tempo di Marcel Ecco la partita, primo settore, secondo settore Siamo a due punti Tre punti Vai, dritta zona, dritta zona qua Buono, buono Buono, fai attenzione Il lancio è buono Vai, 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 vai C'è, volta tua Ah Ecco, ecco il bambinone L'ultima volta si è rotta la clavicola No Che paura Rimpaste, ripaste, Damilio Buono il lancio, guarda che ha lanciato Il papà sta dicendo porta a casa quel disco che mi serve A cuccia Vai Ancora Chi è che lancia qua? No, pensa che è la stessa cosa che si chiude E se si ritenza da l'oggi Giudice mia Pronti? Via È partito? Stop Jacopo Ecco qua Arriva, eh Ecco Fate attenzione Non prenderlo con la bocca aperta Perché sembra un rischio Mi raccomando Oddio 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 La massa La schiaccia qua Vai Vai Elisa Guarda Lungo, 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 lungo L'altra donna Elisa è tua Yes Due su due Salvio Federica Corri anche tu Dai Al terzo disco preso Elisa vince una cena Con il salvio Diego Ha detto che ci va la mamma Il lancio fuori Vabbè Ha becchato proprio quello giusto Allora Adesso Visto Visto questi lanciatori Proponiamo Per essere veramente una qualifica ai mondiali C'è da fare il cambio Adesso saranno i bambini Che lanciano Agli eranti Da piantemente Poi continuare a correre Ok Ok Buono Buono Matteo Corri 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 Quasi 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 Master You You Run Vai Vai Buono Buono Liancio Puffati Dai Ok Guardiamo se Elisa Questa intensa Con il salvio Guarda 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 E Non è che adesso mi rubo al partner per il pace Vero Elisa Per la prossima volta Che sarei già un po' celoso Grande Elisa Wow Ok Adesso Frank Tira Vai 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 C'è Facile Facile Fate di correre questi uomini Adesso vediamo Jacopo Se non sbaglio Corri Adrian Tira io In quinta zona Jacopo Ustrega Ustrega Buono 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 Preso dentro Bravo Ultimo tiro Ultimo tiro Ultimo tiro Corri Corri Ultimo tiro Figuriamoci Vai 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 Tuffati 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 Ok dai Un applausi Un applauso a tutti i partecipanti di questo Junior Qualifier Ripartiamo con Tutti per freestyle Che domani dobbiamo andare tutti a lavoro Parte Parte Naima con coffee A seguire A Survivor A